Ad Adolfo Guiard, figlio di un francese trasferitosi a Bilbao, si riconosce il merito di aver introdotto le novità del linguaggio impressionista in terra basca. Nel 1878, dopo un soggiorno di studio a Barcellona, si trasferisce a Parigi, dove rimane una decina di anni. Testimonianza diretta è questo ritratto di Mademoiselle Saint-Laville del 1880 circa. A Parigi conosce e frequenta l'ambiente artistico e culturale che ruota intorno al gruppo degli impressionisti e in particolare stringe amicizia con Degas, del quale condivide l'interesse per la figura in interni. Il confronto tra le due opere mette in evidenza i debiti profondi che Guiard dichiara nei confronti di Degas. Colori caldi e terrosi ravvivati da dettagli vivaci di fiori, figure plastiche tornite collocate in uno spazio costruito con cura, sfondi con vetrate, specchi o carte da parati chiare che illuminano da dietro una composizione altrimenti un po' cupa. Tornato a Bilbao verso la fine degli anni 80, più che a scena di vita cittadina come a Parigi, Guiard si dedica alla campagna anche se il suo interesse prevalente sarà sempre per la figura. La tavolozza inoltre si va facendo più fredda e metallica con una predilezione per i verdi, i grigi e gli azzurri. La Promessa, una delle opere più importanti dell'artista basco, dichiara i suoi debiti nei confronti dell'impressionismo, del realismo e probabilmente anche del simbolismo che durante il suo soggiorno parigino aveva conosciuto in prima persona. L'atmosfera opprimente del mezzogiorno a primavera avanzata che obbliga i tre paesani a interrompere il cammino per un breve riposo si evidenzia nella luce accecante che inonda la scena ma che non riesce a saturare i colori per effetto dell'umidità che impregna l'ambiente e sfuma i toni. La solida costruzione compositiva è molto interessante. Le tre figure sono disposte a triangolo con la gamba dell'uomo stesa in avanti che lo chiude al vertice. Questa struttura è a sua volta racchiusa nel triangolo più grande costituito dal fianco della montagna che prosegue nel profilo del campo a sinistra, mentre l'effetto eccessivamente geometrico è alleggerito dalle alture ondulate sullo sfondo. La giovane in primo piano è la figura centrale della composizione. I lineamenti sono grossolani e quasi volgari. Il corpo imponente è saldamente piantato anche a causa dell'evidente gravidanza che ne appresentisce la sagoma. Il tema della gravidanza è simbolicamente sottolineato dall'accostamento con l'albero in fiore dietro di lei, quinta scenografica oltre che allusione alla vita nascente. Ghiard non rinuncia alla sicurezza del disegno, ma nelle tre figure il colore è molto importante per costruire masse plastiche fredde che sbalzano contro lo sfondo caldo e sfocato. Sempre al mondo contadino è dedicato un altro capolavoro del pittore basco, Contadinella con garofano rosso del 1903. Qui tutta l'atmosfera è giocata su toni freddi contro i quali risalta la macchia violenta del garofano che la bambina tiene tra i denti. Anche qui la costruzione è perfetta. L'albero a destra restringe lo spazio che la figura appena spostata verso sinistra riempie con sicurezza. L'orizzontale del muretto e il muro perpendicolare sulla sinistra che inquadra l'anziana seduta delimitano una sorta di finestra che sfonda l'angusto spazio del cortile. Non solo, il muretto coincide perfettamente con la base del grande contenitore che la bambina sostiene sulla testa, alleggerendolo in quanto sembra fungere da sostegno. In questo modo la posizione perfettamente eretta della bambina, solo leggermente scivolata verso sinistra a causa della contrapposta posizione delle braccia, non appare incongrua con il peso che è costretta a portare. Delicatissima l'acronomia fredda, quasi metallica della figura, in cui il colore pastoso steso con pennellate fluide e allungate sembra nascondere il solido disegno.